Non brilla, nel primo tempo colpisce però due volte nel corso della dipresa. Mette una serie ipoteca sulla conquista della salvezza diretta in serie di matematica a parte praticamente acquisita. Apre addirittura uno spiraglio interessante in chiave playoff nel girone H. Vince ancora il Gravina che bissa il successo tenuto domenica scorsa al vicino contro la vice capolista Cerignola. Supera 2-0 in trasferta il Pomigliano, penultima forza del raggruppamento nel recupero della 27esima giornata e balza in nona posizione in classifica. I numeri dei murgiani ora recitano così più 8 sulla zona playoff, meno 5 dal quinto posto occupato dal team Altamura. Si gioca senza pubblico allo stadio Ugo Gobbato per l'inagibilità degli spalti. Non gioca una frazione inaugurale indimenticabile la squadra di Valeriano Loseto che conferma il modulo tattico con cui ha battuto il Cerignola, ossia il 3-5-2 con la doppia S di punta. Santoro più Scaringella, meglio i campani nei primi 45 minuti ma il parziale resta bloccato sullo 0-0 sino all'intervallo. Tutt'altra musica invece la ripresa che si apre nel segno dei Pugliesi, cross di Santoro dalla sinistra, colpo di testa a botta sicura di Dentamaro. Ma i padroni di casa si salvano clamorosamente. Insiste il Gravina, destro secco di Santoro, respinge Sorrentino. La migliore occasione per il vantaggio però capita al Pomigliano. È rigore per questo fallo di Tarantino su Girardi ma lo stesso numero 9 dei campani si fa ipnotizzare dall'oliva dagli 11 metri. Poi sui sviluppi dell'azione è segnalato un fallo in attacco. Torna a macinare gioche d'occasione in seguito la squadra di Loseto che punta all'intera posta per chiudere anzitempo il discorso permanenza. Scaringella non sa incidere sul punteggio da distanza ravvicinata. Idem Visone servito da Santoro. Lo stesso Visone prima della mezz'ora alza leggermente troppo la Mila da buona posizione. Il gol che cambia la storia della contesa arriva ad 8 minuti dal novantesimo. Lo realizza il mio entrato Chiaradia con un bolide mancino dalla distanza che sorprende il portiere del Pomigliano. E nel recupero arriva anche il raddoppio di Maddi che mette fine alla contesa. Termina dunque 2-0 per il Gravina, la conferma della categoria. E cosa fatta per il giallo blu domenica prossima di scena a Bitonto. Nel sest'ultimo appuntamento della stagione regolare un risultato positivo al Città degli Olivi. Chissà, potrebbe aprire a nuovi orizzonti inimmaginabili pochi giorni fa.